Eccoci qua signori, benvenuti in questo video. Allora, trucco per trovare le quote di valore. Il titolo è provocatorio, per oggi vediamo un concetto elementare estremamente importante, quanto essenziale per poter costruire un betting di successo, per poter acquisire delle abilità e per poter rendere il proprio betting non solo professionale ma sostenibile nel tempo. Questo ci porta ad un concetto fondamentale, un concetto che molto spesso, anzi nel 100% dei casi, i charlatani, i curi, i formatori là fuori che vendono corsetti e nella loro arte hanno l'abilità grandissima di modificare i screen, non parlano mai. Perché? Perché non lo conoscono. Ma stiamo parlando, signori, di un fondamentale, di qualcosa di assolutamente importante da conoscere e ovviamente se non lo conosci sei fuori dal mondo e non potrai mai guadagnare da questa attività. dal mercato, ovviamente. Questo spiega, è una cosa inspiegabile per gli amatori del settore, come mai è possibile che tanti charlatani là fuori che fanno formazione non conoscono questo concetto, non lo utilizzano e non ne parlano mai. Invece di parlare di strategie, statistiche e cavolate varie, delle cose importanti non viene mai parlato. Non per mala fede, ma perché semplicemente non lo conoscono, ve lo dico chiaramente. Comunque andiamo avanti. All'interno di questo video verrà distribuito un codice sconto, un codice sconto per acquistare Football Pro 2.0, che è il mio prodotto professionale che si compone di analisi totalmente per match ed è un prodotto che per l'appunto vi regala non solo analisi di mercato competenti e professionali, ma soprattutto profitti e una visione a 360 carati di come portare avanti i betting operativo. Questo video nasce da una domanda che per l'appunto mi è stata fatta da un cliente in merito a un'operazione di Football Pro avvenuta nelle ultime 24 ore di mercato, operazioni di Football Pro che andremo ad osservare dopo, con tanto di esempio pratico, vedendola in tutte le sue sfaccettature. Però adesso è importante dirvi che intanto iscrivetevi a questo canale YouTube, perché in questo canale YouTube, come vedete molto spesso, vengono distribuite informazioni di grandissimo valore operativo a titolo totalmente gratuito. Stiamo parlando di contenuti che nei corsetti farlocchi dai ciarlatani non trovate, ovviamente, e che in questo caso invece sono a titolo gratuito e sono espressione di un professionista, dell'attività di un professionista a mercato. Allora, il concetto è veramente molto importante. Come sapete io ribadisco molte volte nei miei video che è essenziale servizi del mercato asiatico per poter guadagnare dai mercati sportivi. Ma cosa intendo io per questo? Intendo che semplicemente dovete servirvi di tutte quelle operazioni che compongono il mercato asiatico per guadagnare, non a caso, il mio prodotto professionale Football Pro 2.0 a una valanga di operazioni sul mercato asiatico. Il vantaggio del mercato asiatico è presto detto, lo vediamo all'interno di questo video. Come vedete sono su Bet365, prendiamo le operazioni delle prossime 12 ore, prendiamo Bulgaria e Irlanda del Nord e portiamo un esempio concreto. Allora, innanzitutto, il mercato asiatico è estremamente più vantaggioso del mercato tradizionale per tutta una serie di ragioni che non andrò qui a vedere nel dettaglio. Ma come vedete al titolo di questo video, trucco per trovare le quote di valore, che è un titolo provocatorio, noi adesso andremo a vedere qual è il modo migliore, anche all'interno dello stesso bookmaker, in questo caso di Bet365, che è un buon bookmaker AMS, andremo a vedere come è possibile trovare le migliori quote disponibili e che è una delle, proprio delle abilità elementari e che c'è dietro ovviamente un altro tipo di conoscenza che ti permette di affrontare correttamente il mercato e gestire correttamente l'agio e possibilmente anche il valore in base alle tue skills, alle tue abilità sul mercato. Quindi vediamo. Allora, innanzitutto, come vedi, qui abbiamo quelle che sono le classiche operazioni dello scommettitore della domenica, quelle a cui sono molto affezionati gli scommettitori classici, amatoriali, tradizionali. Per l'appunto, questo è un mercato semplice, niente di strano. Andiamo a vedere cosa vuol dire servizi del mercato asiatico, in base a questa operazione di mercato, e in linea, scusami, con questa operazione di mercato, e quali sono i vantaggi. Allora, innanzitutto, quando noi vediamo una quota 2,80, 2,90 o 2,70, questo tipo, tipologia particolare di mercato, quello che devi sapere è che il mercato asiatico ha, e questa è una cosa molto importante, ha un agio molto, ha un agio ridotto, rispetto, presenta un agio ridotto rispetto a quello che è il mercato tradizionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che potenzialmente, anzi, così è, trovi delle quote più alte, rispetto al mercato tradizionale. Questo, questo vuol dire anche che non solo trovi delle quote più alte, e conseguentemente, appunto, un agio più basso, ma che puoi sfruttare il mercato asiatico per sostenere meglio quei periodi complessi nella tua operatività. E con questo mi spiego meglio, adesso lo vedrai. Quando sei all'interno di un bookmaker come questo, puoi semplicemente confrontare alcune, è questo che stiamo per fare, alcune delle tipologie del mercato tradizionale, delle operazioni del mercato tradizionale, quindi tipologie di operazioni del mercato tradizionale, con quelle offerte dal mercato asiatico. Quindi nel caso in cui prendiamo la doppia chance, quindi la Bulgaria o Parigi, o in questo caso a 1,44, allora andiamo a guardare al mercato asiatico e vi faccio vedere una cosa molto interessante. Come vedete, il corrispettivo dell'1x della Bulgaria con l'Irlanda del Nord non è altro che l'operazione Asian Handicap 0.5, chiamata qui, su Bet365, Handicap asiatico. Come vedete, questa quota è a 1,45, mentre la quota offerta dal mercato tradizionale è a 1,44, ma andiamo a prendere l'Irlanda del Nord o Parigi, quindi sostanzialmente l'X2, la doppia chance. Andiamo a prenderla per il mercato asiatico, ci serviamo ovviamente sempre del più 0,5, in questo caso a 1,45. Quindi, come vedete, da 1,40 a 1,45. Se il mouse mi aiuta. Ecco qua. Questo concetto è ancora più evidente, come vedete, il mercato asiatico offre delle quote più alte quando ci troviamo di fronte ci troviamo di fronte il mercato del drone o pet, rimborso in caso di parità, confrontato con l'Handicap asiatico. Eccoci qua. Quindi, in questo caso, voi vi ritrovate un rimborso, ecco l'operazione di mercato, voi vi trovate con un rimborso in caso di parità per la Bulgaria, 1,83, e con l'Irlanda d'Ernold sempre rimborso in caso di parità, 1,83. Ciò vuol dire che, nel caso in cui il match dovesse finire in pareggio, terminare in pareggio, allora questa operazione sarebbe void entrambe le operazioni, ovviamente. Nel caso invece dell'Handicap asiatico, il corrispondente del mercato tradizionale, l'operazione corrispondente del rimborso in caso di parità, il formoso 2 drone o pet, o 1 drone o pet nel caso della Bulgaria, non vedete altro che una quota decisamente più alta, con parecchi tic di differenza. Quindi, in questo caso, vi ritrovate con 15 tic di differenza, sostanzialmente, perché Bulgaria ha 1,98, qui ha 1,83, qui ha 1,95, qui ha 1,83. Quindi, come vedete, conviene andare nel mercato asiatico proprio perché le quote sono più alte. Le quote saranno sempre più alte in lavagna. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che, se voi andate a confrontare le quote offerte dal mercato tradizionale con le quote offerte al mercato asiatico, vedrete che comunque c'è sempre un agio minore e avrete un vantaggio. Ovviamente, è vostra intenzione, nel momento in cui avete e attribuite una probabilità reale di un certo tipo a un evento, in questo caso la Bulgaria Vichette, e andarvi a trovare la quota più alta anche all'interno dello stesso book, come che in questo caso i bet365. Stessa cosa, digasi nel caso in cui voi voleste giocare l'X2 dell'Illanda del Nord, ovviamente, converrebbe giocare a 1,45 servendosi della serena handicap meno, più 0,5, non meno, più 0,5. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che voi conoscete l'accio, conoscete la percentuale di ritenuta del bookmaker, agite di conseguenza e quindi potete assicurarvi già in questo modo un piccolo vantaggio sul mercato e che è molto importante. A questo punto io distribuisco subito il codice sconto per acquistare Football Pro, valido solo per i nuovi clienti, ribadisco, valido solo per i nuovi clienti e il codice sconto è semplicemente SUD, S di Savona, U di Udine, D di Domodossola, SUD, in maiuscolo. Quindi questo dovete inserire all'interno dell'e-commerce di BetSystem per acquistare il prodotto a un prezzo scontato. Come vedete sono sempre pieno di notifiche. Detto questo, quindi, la domanda però nasce da un cliente che appunto, il video nasce da un cliente che appunto mi ha fatto notare una cosa che lui non conosceva e adesso andiamo a vedere. Quindi prendiamo il, prendiamo Football Pro 2.0 come vedete questo è il canale ufficiale di Football Pro 2.0 con 118 persone che rinnovano santuariamente, scusatemi, costantemente il prodotto e questo è il risultato di un'intensa operatività sul mercato che poi perdi le parole non ci sei più. quindi 2 Asian handicap per 0.0 a 2.10 per la Russia ciò vuol dire che nel caso in cui questa partita terminasse in parità l'operazione sarebbe rimborsata in intero importo scommesso quota 2.10 e andiamo a vedere innanzitutto quello che ci interessa quindi andiamo su diretta.it prendiamo la Russia e andiamo a vedere il risultato finale Slovenia-Russia come vedete ovviamente era messa tra i preferiti andiamo a vederla 1.2 la Russia ha vinto quindi un'operazione conclusa in profitto quota 2.10 quindi nel caso in cui la Slovenia portava a casa un risultato di 2.2 ovviamente in quel caso lì sarebbe stata rimborsata l'operazione di mercato non è il nostro caso perché ovviamente la Russia ha vinto e noi abbiamo conseguentemente una quota a 2.10 quello che ci interessa è andare a guardare la comparazione quota e andare a cercare l'Asian Handicap 0.0 che eccola qua quindi Bet365 ovviamente ha avuto un calo di quota e la quota che noi avevamo passato all'interno del Football Pro 2.0 a 2.10 è scesa a 2.06 un leggerissimo drop un leggerissimo calo di quota sul mercato ma quello che ci interessa è andare a vedere la domanda che ci è stata fatta e allora mi servo di Bet Explorer ovviamente andiamo sempre a prendere il mercato della Russia del match che si è disputato ieri andiamo sul mercato 2 drone o bet che sostanzialmente è il rimborso in caso di parità e notiamo una cosa molto bizzarra notiamo che su Bet365 2 drone o bet è terminato il famoso rimborso in caso di parità quella dicitura che vedevamo prima è terminato a 1.90 chiuso a 1.90 quindi cosa vuol dire questo vuol dire che sta ad indicare appunto che il mercato tradizionale ci offre ci ha offerto una quota più bassa questo proprio in virtù dell'aggio ovvio che ovviamente i mercati interpretano possono interpretare lo stesso evento con delle quote diverse ma molto spesso succede che il mercato tradizionale segua le orme del mercato asiatico quindi cosa vediamo la Russia ha vinto 2 a 1 come vedete una quota decisamente più bassa era molto più conveniente andare a prenderla a 2.10 o comunque anche nel caso di Bet365 considerando anche il piccolo drop di quota andiamo a guardare che torno sulla comparazione quote se diretta.it me lo permette andiamo sullo 0.0 e a 2.06 quindi da 1.90 a 2.06 capite che ci sono dei tic di differenza e capite ovviamente che voi avete tutto di testa andare a prendere la quota più alta quindi quello che dovete andare a fare voi è anche all'interno dello stesso bookmaker andare a cercare le quote più alte servendovi del mercato asiatico che per appunto ha un agio minore e che quindi vi permette di trovare delle quote più alte con un prezzo più alto sul mercato e questa è una cosa molto importante quindi un'altra cosa essenziale da dirvi allora voi quando dovete operare sul mercato dovete servirvi non solo del mercato asiatico ma ovviamente dovete essere in grado di individuare il corretto e reale valore di quell'evento che ovviamente rappresenta delle probabilità le quote che voi trovate qui hanno delle probabilità implicite ovviamente ed è il modo per cui poi potete anche fare quel famoso confronto di cui parlavamo prima tra il mercato tradizionale e il mercato asiatico andando proprio a purare quella cosa che abbiamo detto dell'agio però quello che voi dovete capire è che questo che è un trucco sì che vi permette di ottenere delle quote più alte potenzialmente utilizzando anche soft strumenti come Bet Explorer o comunque diretta.it per il paragone per la comparazione delle quote dei bookmagrams quello che voi dovete capire è che questa è una schizzo una competenza veramente elementare che voi dovete avere nel vostro bagaglio di esperienze perché questo vi porta a nuove conclusioni ad operare in maniera totalmente diversa sul mercato non a caso anche semplicemente osservando le analisi di Football Pro voi imparate tanto perché non solo guadagnate ad operatività non solo avete l'opportunità di vedere anche come gestisce il money management da un professionista ma avete l'opportunità di capire come opera un professionista al mercato quando prende quelle quote al mercato e di capire su che mercati si concentra un professionista quindi vedrete solitamente degli asianendica come avete visto nel caso della Russia vedete le somme con le asiatiche e via discorrendo questo proprio per farvi capire che un professionista opera in maniera diametralmente opposta di quel ciarpame di quella montagna di ciarlatani che voi trovate online e che fanno i formatori e che ribadirò sempre all'infinito modificano i scritti quindi cosa succede? succede che se voi affidate a queste persone credete che le statistiche siano una soluzione valida un'alternativa valida assolutamente no credete che si possa guadagnare dal mercato utilizzando delle strategie e quindi voi cadrete sempre nel loop in cui continuerete ad operare sugli over continuerete ad operare su entrambe le squadre segnano piuttosto che lavorare sui no goal e così via piuttosto che lavorare sui under sulle somme goal asiatiche sugli handicap asiatici questo ovviamente vi porta a perdere denaro soprattutto voi se fino ad oggi non conoscevate questo discorso legato al mercato asiatico c'è una ragione per cui un professionista opera sul mercato asiatico e questa è una delle tante quindi intanto sto perdendo la voce quello che dovete fare è semplicemente questo sfruttare e trovare ovviamente le voci più alte questa è una chicca che vi ho dato all'interno di questo video ma voi dovete essere in grado di individuare correttamente il valore sul mercato perché questa informazione questo trucco diciamo così un termine un po' improprio che vi ho dato non è una panacea tutti i mali ovviamente non è quella la soluzione magica al problema o al trovare individuare le quote di valore c'è tutto un altro lavoro dietro ma questo è un concetto fondamentale un tassello fondamentale che vi serve per poter guadagnare dalle scommesse proprio le basi delle basi e già che conoscete questo questo fondamentale siete avvantaggiati su tutti i ciarlatani che fanno formazione quindi non vi serve la loro formazione detto questo signori io vi saluto vi rinvio ai prossimi video ovviamente iscrivetevi al canale youtube diffondete il verbo del professionismo il codice sconto lo sapete ovviamente non ripeto non ripeto il codice sconto vi saluto vi rinvio ai prossimi video e ragazzi forza grazie a tutti grazie a tutti